buongiorno a tutti oggi ci troviamo a camorino e quello che sto per mostrarvi è un stupendo appartamento di quattro locali e mezzo entrando subito nella porta di ingresso troviamo davanti a noi la sala una sala veramente grandissima con delle vetrate stupende che ci portano alla terrazza privata dell'appartamento all'ingresso abbiamo un armadio a muro che si può utilizzare come scarpiera e la lavanderia privata con lavatrice asciugatrice e lavabo proseguendo quindi la nostra visita torniamo in sala abbiamo un riscaldamento a pavimento con condizionatori che fanno anche aria calda la sala ci porta direttamente con la vista sulle montagne e subito a sinistra c'è la cucina una cucina semi aperta dotata di vano frigo vano congelatore lavabo piastra induzione con la sua cappa e il forno abbastanza spaziosa per poter mettere anche magari un armadio contenitore terminando quindi la zona giorno possiamo andare nella zona notte dove nel corridoio troviamo subito un grande armadio a muro e nella prima porta a destra andiamo quindi nella prima camera una camera singola con affaccio sulla terrazza terrazza comunicante sia con la sala che con la seconda camera che quindi adesso andiamo a vedere eccola qui questa è la seconda camera come vi dicevo è stato tutto ristrutturato recentemente ogni camera con il suo condizionatore andiamo ora in bagno un bagno con vasca pc lavabo e specchio contenitore ed eccoci quindi nell'ultima camera una camera matrimoniale con vetrate con le sue tende oscuranti una camera servita da un bagno privato con doccia veramente molto grande lavabo con specchio vc e bidet specchio finestrato come potete vedere davvero molto luminoso quindi se vi è piaciuto questo appartamento vi prego di contattarci di affitto grazie a tutti grazie a tutti